Guelfi e Ghibellini, la lunga lotta per il potere in Italia. Le fazioni dei Guelfi e dei Ghibellini furono due potenti schieramenti politici che si contrapposero per secoli in Italia, a partire dal XII secolo. I loro scontri, che si protrassero fino al XIV secolo, ebbero un profondo impatto sulla storia e la cultura del paese. Le origini del conflitto Le origini del conflitto tra Guelfi e Ghibellini sono da ricercarsi nelle lotte per la successione imperiale in Germania. Nel 1125, l'imperatore Enrico V morì senza eredi. Due famiglie nobili si contendevano la successione, i Welfen, o Guelfi, e gli Oenstaufen, o Ghibellini. I Guelfi erano una famiglia di origine bavarese, mentre gli Oenstaufen erano una famiglia di origine sveva. I Guelfi appoggiavano la politica imperiale di Enrico V, mentre gli Oenstaufen erano favorevoli a un'autonomia maggiore degli stati tedeschi. La lotta tra le due famiglie si estese presto all'Italia, dove i Guelfi erano sostenuti dai comuni urbani, mentre i Ghibellini erano appoggiati dall'imperatore. Le caratteristiche delle due fazioni Le due fazioni erano caratterizzate da diversi aspetti. I Guelfi erano generalmente più favorevoli al comune, mentre i Ghibellini erano più propensi a un governo autoritario. I Guelfi erano anche più legati al papato, mentre i Ghibellini erano più legati all'imperatore. Inoltre, le due fazioni erano spesso divise al loro interno, a seconda delle specifiche esigenze dei comuni o dei territori in cui operavano. I conflitti tra Guelfi e Ghibellini I conflitti tra Guelfi e Ghibellini furono spesso violenti e sanguinosi. Le due fazioni si scontrarono in numerose battaglie, che spesso si risolvevano con la vittoria di una delle due parti o con la pace stipulata con un trattato. Tra le battaglie più importanti tra Guelfi e Ghibellini si ricordano La battaglia di Montaperti, 1260, in cui i Ghibellini senesi sconfissero i Guelfi fiorentini. La battaglia di Campaldino, 1289, in cui i Guelfi fiorentini sconfissero i Ghibellini aritini. La battaglia di Benevento, 1266, in cui i Guelfi guidati da Carlo D'Angio sconfissero i Ghibellini guidati da Manfredi di Svedia, la battaglia di Fossalta, 1289, in cui i Guelfi guidati da Guido Novello da Polenta sconfissero i Ghibellini guidati da Guido da Montefeltro. La fine del conflitto Il conflitto tra Guelfi e Ghibellini si concluse gradualmente nel corso del XIV secolo. Nel 1312, l'imperatore Enrico VII di Lussemburgo fu sconfitto dai Guelfi nella battaglia di Muldorf, Questa sconfitta segnò la fine dell'egemonia imperiale in Italia e l'affermazione definitiva dei comuni. Nonostante la fine del conflitto, le divisioni tra Guelfi e Ghibellini continuarono a esistere per molti anni. Queste divisioni contribuirono a formare l'identità politica e culturale di molte città italiane. L'influenza del conflitto Il conflitto tra Guelfi e Ghibellini ebbe un'influenza profonda sulla storia e la cultura dell'Italia. I due schieramenti si contrapposero per secoli, dando vita a una serie di conflitti violenti che ebbero un impatto significativo sul paese. Le divisioni tra Guelfi e Ghibellini contribuirono a formare l'identità politica e culturale di molte città italiane. Queste divisioni sono ancora oggi visibili in alcune città, come Firenze e Siena, dove i due schieramenti erano particolarmente forti. Il conflitto tra Guelfi e Ghibellini è un esempio di come la politica possa essere fonte di divisioni e violenza. È anche un esempio di come le divisioni politiche possano avere un impatto duraturo sulla società. Grazie. 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 Grazie.